Finito l'archeano, comincia il proterozoico, che è l'ultimo eone del precambriano, che va da 2,5 a 541 milioni di anni fa. Questo eone è caratterizzato dalla crescita della crosta continentale, che raggiunge in questo eone l'80% dell'attuale, quindi il grande dualismo di crosta oceanica e continentale di cui è caratterizzata la Terra comincia ad essere ben evidente proprio in questo eone. L'aumento della crosta continentale modifica radicalmente l'ambiente terrestre e quindi si passa da un mondo con piccoli continenti isola a vaste ed estese terre emerse con lunghe catene montuose e grandi altopiani. La maggior parte delle rocce di questo eone le troviamo nei cuori delle zone più antiche dei continenti attuali, i cratoni. Quindi oggi la crosta terrestre è divista in queste due grandi categorie. Abbiamo i cratoni, che sono lembi molto estesi di crosta continentale resistenti alla deformazione crostale, e poi fasce di crosta oceanica, che sono settori di crosti più sottili, mobili e distribuite tra i cratoni. Di fatto sono la crosta oceanica, che viene poi rigenerata e riciclata nelle zone di subduzione. Con l'aumento della crosta continentale e la continua attività della tettonica placche, cominciano a formarsi i primi supercontinenti. Sappiamo che ci sono stati molti supercontinenti nel passato, e a questi sono stati dati anche dei nomi, come il Valbara, di tre migliaia di anni fa, l'Ur, il Kenorland, il Columbia, il Nubia, il Rodinia, il Pannotia. Però di fatto il primo supercontinente di cui si hanno abbastanza dettagli per poter essere ricostruito è proprio il Rodinia, circa un miliardo di anni fa. Non abbiamo grandi informazioni dei supercontinenti precedenti, perché nel tempo tutte le prove statigrafiche e geologiche che queste potrebbero conservare sono state cancellate. Quindi quello che sappiamo è che a un certo punto, quando la crosta continentale cominciava a essere abbondante sulla Terra, si è formato questo ciclo, chiamato anche ciclo di Wilson, in cui tutte le placche continentali si fondono periodicamente in un unico supercontinente per poi riframmentarsi e ridispedersi sul globo. In questi processi la crosta continentale viene continuamente riciclata nelle successioni dei cicli geologici e durante questi eventi vengono generate le catene montuose. Man mano che aumenta la massa della crosta continentale aumentano l'entità delle catene montuose e degli altopiani. Queste catene montuose sono esposte agli agenti atmosferici e la loro erosione va a formare di conseguenza dei sedimenti negli oceani. Qui vediamo in particolare cos'è un ciclo geologico. La crosta terrestre in questo eone raggiunge il suo spessore attuale di circa 30 km e aumentano poi di fatto le testimonianze geologiche perché avvicinandoci al presente gli eventi che cancellano le prove geologiche sono sempre di meno e quindi abbiamo sempre più prove geologiche. Per questo il primo continente di cui possiamo avere informazioni certe è Rodinia. Gli altri sono stati ricostruiti a grandi linee ma non sappiamo esattamente com'erano. Poi, come è fatto un ciclo geologico? Abbiamo che una placca continentale può essere frammentata da una dorsale che la interseca creando un oceano in mezzo a queste due placche continentali. Queste placche continentali possono allontanarsi da una parte e riunirsi dall'altra perché ovviamente è la terra rotonda, quindi prima o poi si incontrano creando queste catene montuose. Maggiore è l'estensione della crosta continentale maggiore sono le estensioni delle catene montuose che si formano. Qua abbiamo due tipi di catene montuose per collisione tra due placche continentali e per subduzione in cui una placca oceanica va in subduzione sotto un'altra placca oceanica o continentale generando invece una catena di vulcani. Questo processo si rigenera in continuazione creando appunto i cicli geologici che nel tempo generano successioni di supercontinenti e frammentazione dei supercontinenti e così via. L'ultimo supercontinente che si è formato è il Pangea circa 300 milioni di anni fa che poi si è frantumato durante il Mesozoico e nel Cenozoico i suoi frammenti hanno costituito i cinque continenti attuali. Cosa avviene nel Proterozoico? In questo eone comincia a cambiare la composizione chimica dell'atmosfera. Infatti i cianobatteri che ho già citato con il loro metabolismo fotosintetico assorbono la CO2 e producono come scarto l'ossigeno. Questo ossigeno comincia ad accumularsi prima negli oceani e poi in atmosfera. Però già negli oceani comincia a vedere le conseguenze perché quando la Terra era un ambiente anaerobico il ferro ridotto veniva trasportato dai fiumi nei mari e qui rimaneva disciolto. Il ferro ridotto sarebbe il ferro con numero di situazioni pari a 2+. Una volta che i cianobatteri hanno riempito i mari di ossigeno questo ferro ha cominciato a ossidarsi e a deporsi sul fondale creando degli strati ferrosi. Poi durante l'autunno e l'inverno la diminuzione della luminosità riduce l'attività fotosintetica dei cianobatteri e in queste stagioni prevalgono la deposizione di carbonato di calcio e silice. Per questo abbiamo depositi a bande con alternanza di strati ferrosi e strati di carbonato di calcio e silice. In questa epoca geologica abbondano questi depositi tant'è vero che il 90% dei giacimenti di ferro che l'umanità sfrutta oggi derivano proprio da questo periodo geologico in cui l'ossigeno si stava diffondendo in oceani e stava di fatto rimuovendo il ferro dall'acqua. Poi una volta che gli oceani si sono ossidati completamente l'ossigeno è passato in atmosfera e stavolta sono le rocce delle terre emerse a subire fenomeni di ossidazione. Compaiono quindi depositi ferrosi o ossidati anche in superficie. Qui troviamo un affioramento di rocce ossidate rosse. Questo fenomeno è stato osservato anche su Marte. Anche su Marte ci sono rocce che si sono ossidate. Lo stesso Marte viene definito pienta rosso perché il colore della sua superficie è dovuto all'ossido di ferro. Questo sembra essere una prova che in passato Marte abbia avuto un'atmosfera molto ossidante e che poi invece si è ridotta diventando quello che è oggi. L'atmosfera di Marte oggi contiene solamente lo 0,1% di ossigeno ma il colore delle sue rocce testimonia che in passato sia stata molto ossidante. E secondo alcuni biologi questa è la prova che in passato Marte abbia avuto la vita o comunque una biosfera attiva la quale per fotosintesi ha liberato in atmosfera grandi quantità di ossigeno che hanno poi ossidato le rocce in superficie. Una volta che questa biosfera ha smesso di esistere con l'estinzione della vita sul pianeta rosso l'ossigeno prodotto si è consumato completamente e senza nessun altro processo che possa aver continuato a produrlo il pianeta è diventato quello che è oggi. Infatti l'atmosfera terrestre è un'atmosfera fortemente fuori equilibrio chimico. Se abbiamo tutto questo ossigeno nella nostra atmosfera è perché la biosfera lo produce in continuazione. Nel caso anche sulla Terra si estingua la vita e la biosfera sparisca anche la Terra perderà tutto l'ossigeno che ha accumulato in atmosfera perché questo 21% di ossigeno che caratterizza la nostra atmosfera è un equilibrio dinamico chimico tra l'attività biologica della biosfera quindi la fotosintesi delle piante e le reazioni chimiche che questo ossigeno hanno con la litosfera e l'itrosfera che di fatto assorbono e consumano questo ossigeno. Un'altra cosa importante da dire è che sappiamo che questo evento ossidativo dell'atmosfera terrestre è avvenuto tra i 2 e i 1,5 miliardi di anni fa perché è proprio a questa età che risalgono tutti i depositi delle bande di ferro cioè quei depositi che si sono formati a causa dell'arricchimento dell'ossigeno nelle acque degli oceani e poi successivamente dell'accumulo di stati rossi dovuti ai fenomeni ossidativi dell'ossigeno sulle rocce che emergevano dall'acqua. Questo fenomeno ossidativo è avvenuto grazie ai cianobatteri ma nella seconda parte del proterozoico l'evoluzione genera nuove forme di vita. Già da 1,4 miliardi di anni fa compaiono i primi organismi eucarioti quindi quelli che hanno la possibilità di prodursi in modo meiotico quindi con la meiosi e una produzione sessuata. L'avvento della produzione sessuata accelera notevolmente l'evoluzione perché crea una grande varietà genetica in poche generazioni. La diffusione delle alghe eucariote fa aumentare la concentrazione di nitrati NH3 nelle acque marine per ossidazione. Queste sono un importante nutriente per questo tipo di alghe quindi gli oceani si arricchiscono di queste alghe. Continuano a diffondersi i procarioti e cianobatteri i quali conosceranno in questo momento geologico la massima diffusione sul pianeta. Infatti oggi ci sono ancora i cianobatteri ma sono relegati in piccole aree dell'Australia. La maggior parte dell'ossigeno della Terra è prodotto dalle piante ma all'epoca erano i cianobatteri che hanno ossigenato il pianeta. La vita complessa e multicellulare si evolve sempre più in fretta anche grazie alla rivoluzione sessuata. È proprio in questo momento geologico che l'evoluzione procede per tentativi generando forme di vita sperimentali. Non tutte hanno successo e molte si estinguono altre invece hanno successo e hanno dato origine ai filum che popolano oggi il pianeta. Uno dei più rilevanti è la fauna di Ediacara. Che cos'è questa? Praticamente è costituita da un ecosistema di animali dal corpo molle che vivevano sul fondale marino e che pare popolassero tutto il pianeta. Però sono identificati con questo nome Ediacara perché sono stati scoperti per la prima volta in una zona dell'Australia che porta questo nome. Ma pare che all'epoca tutto il mondo fosse popolato da queste creature. Questo è uno dei tanti tentativi con cui la vita ha provato a popolare il pianeta con organismi complessi che però poi è fallita. Infatti sono stati altri rami evolutivi poi a diffondersi sul pianeta ed avere più successo. Ma questi organismi hanno rappresentato la vita agli oceani per milioni di anni prima di sparire. E soprattutto la loro scomparsa rappresenta la prima testimonianza di un'estinzione di massa di organismi multicellulari avvenuta alla fine del proterozoico 541 milioni di anni fa. Si pensa che questa estinzione sia dovuta all'avvento di organismi predatori oppure a rapidi cambiamenti climatici. Però un altro evento molto importante che avviene in questo eone è la formazione dello stato di ozono. Infatti tutto questo ossigeno che prima ha riempito gli oceani e poi l'atmosfera sale ad alta quota e subisce una reazione fotochimica con la radiazione solare. Infatti i raggi o tre valetti del sole colpiscono le molecole di ossigeno che si trovano in alta atmosfera e queste molecole che a quella quota si organizzano a formare molecole di ozono O3 si rompono assorbendo il raggio o toaletto fermandolo ad alta quota per poi riformarsi in ozono. Questo processo fotochimico ferma i raggi o toaletti nella stato sfera e quindi con lo sviluppo dell'ozono sfera nella stato sfera la superficie terrestre diventa un ambiente più favorevole alla vita perché non subisce più quei livelli di radiazione o toaletta che prima impedivano alla vita di uscire fuori dall'acqua. Infatti i raggi o toaletti non riescono a penetrare l'acqua per 8-10 metri e gli oceani erano una zona protetta dai raggi o toaletti per la vita. Non appena la strada di ozono si è formato impedendo ai raggi o toaletti di raggiungere le terre emerse anche queste ultime sono diventate un ambiente ideale alla vita. e proprio questo evento estremamente ossidativo dell'atmosfera che genera l'ozono permette alla vita di colonizzare anche la terraferma creando il preludio per il farinozoico che è l'era della vita manifesta in cui vedremo una grande esplosione di vita negli oceani e sulle terre emerse. Però nonostante la fauna di Diocara sia stata la prima testimonianza di una estensione di vita complessa in realtà sappiamo che sono stati tanti gli eventi estremi che hanno causato la quasi completa sparizione della vita sulla terra. Ci sono state tante estensioni di massa durante questi ioni e in particolare qui ne vediamo alcune quella che ha dato inizio l'ione proterozoico 2,4 miliardi di anni fa causata dalla grande ossigenazione prodotta da cionobatteri che di fatto ha ucciso una grande quantità di esseri viventi perché all'epoca gli esseri viventi non erano ancora adattati all'ossigeno e per la vita dell'epoca era un elemento molto tossico infatti oggi gli esseri viventi che metabolizzano l'ossigeno hanno una grande quantità di enzimi che vanno a limitare i danni che può provocare negli organismi viventi infatti l'ossigeno è molto reattivo c'è bisogno di un grande controllo chimico all'interno delle cellule per evitare che possa fare danni e all'epoca i primi organismi non l'avevano chi sopravvisse a questa grande ossigenazione del pianeta lo fece o nascondendosi in zone senza ossigeno come i fondali oceanici o le zone idodermali oppure lo fece adattandosi all'ossigeno sviluppando degli enzimi che possano controllare in modo migliore le reazioni chimiche con l'ossigeno poi ci sono stati eventi glaciali enormi infatti questa grande ossigenazione ha assorbito molto a CO2 che è un potente gas a serra mettendo in crisi la stabilità climatica del pianeta creando enormi eventi glaciali che hanno portato in alcuni casi anche il pianeta ad essere quasi completamente ghiacciato ci sono stati alcuni eventi definiti appunto snowball earth che tradotti significano terra a palla di neve in cui l'intero pianeta è rimasto completamente congelato la vita è sopravvissuta sotto il ghiaccio negli oceani oppure in zone riscaldate da attività vulcanica poi col tempo l'attività vulcanica ha rimesso in atmosfera l'ACO2 assorbita da legionobatteri riportando il pianeta a un equilibrio climatico compatibile con la vita un altro evento importante di questione è stata la simbiosi tra gli eucarioti e mitocondri avvenuta circa due miliardi di anni fa una volta che il pianeta si è imitato d'ossigeno gli eucarioti si sono adattati all'ossigeno con i mitocondri sviluppando poi quel complesso metabolismo della respirazione cellulare che utilizza l'ossigeno per sitilizzare molecole ATP a partire dallo zucchero circa un miliardo di anni fa si è formato il primo supercontinente di cui abbiamo molte informazioni che è il rodinia dei supercontinenti precedenti conosciamo molto poco e alla fine di tutti questi eventi che hanno segnato leone proterozoico abbiamo la comparsa dei primi animali con una simmetria testa-coda circa 600 milioni di anni fa da qui nascerà la grande esplosione pregambiano di cui parleremo a breve questo è solo un estratto della lezione completa sulla storia della terra nella lezione completa parlerò del concetto rivoluzionario che vede la terra come un sistema integrato complesso tra più sottosistemi in cui c'è uno scambio costante e continuo di materia ed energia tra atmosfera biosfera idrosfera e litosfera che rende di fatto unico con la sua biosfera il nostro pianeta nel sistema solare parleremo dell'importanza che hanno avuto i fossili ma non solo nella determinazione e nella scoperta della storia affascinante che ha interessato il nostro pianeta una grandissima parte della lezione sarà dedicata al fanerozoico l'era della vita manifesta e complessa che è quella anche che conosciamo meglio essendo la storia più recente della terra negli ultimi 550 milioni di anni e poi ancora parlerò soprattutto dei grandi eventi di estinzione di massa che hanno interessato il nostro pianeta e che hanno determinato l'evoluzione della vita sulla terra trovate questo e tanto altro ancora sul mio canale youtube e sulle mie pagine instagram e facebook prof antonio loiacono grazie 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 a tutti